Ben trovati dal Tg della mobilità, settimana dell'epifania, ultimi giorni del piano mobilità messo a punto per questo periodo festivo. Le due ZTL di centro e tridente saranno in funzione anche il 6 e il 9 gennaio. Nelle giornate del 6, 8 e 9 gennaio saranno potenziate tra 13 e 16 linee di bus. Sempre nei giorni festivi del 6 e 9 gennaio anche le linee elettriche 100 e 119 saranno in servizio. Da lunedì 10 gennaio sarà necessario il Green Pass rafforzato per accedere ai trasporti, compreso il trasporto pubblico locale. Lo ha stabilito l'ultimo decreto legge in materia anti-Covid approvato il 29 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri. Intanto tra le misure anti-Covid per salire a bordo di bus, tram, metro e treni è necessario indossare la mascherina FFP2. È tutto per questa edizione.